Benvenuti cari amici in questo primo episodio di Aspettando Green 2017. Mi presento, sono Domenico Di Maria, otorino-aringoiatra da Benevento e da circa 12 anni di interesso di otorino-aringoiatria pediatrica. Di questi 12 anni, gli ultimi 5 li ho dedicati all'organizzazione di un corso dall'acronimo GREEN, come avete visto nel titolo, che sta per giornate residenziali di esercitazioni endoscopiche. La nostra prima esperienza c'è stata nel 2012. Perché GREEN? L'acronimo nasceva dal fatto che questo primo corso è stato organizzato in un luogo a meno, in campagna, in un agriturismo. La mia idea era quella di creare un luogo, offrire in un luogo dove si potesse solamente confrontarsi, studiare e stare sereni per meditare. E poi il nome è rimasto così anche nelle edizioni successive, che si sono tenute poi in location differenti. Ma tutte quante sicuramente animate dallo stesso spirito. Cioè quello di offrire offrire ai partecipanti, e non solo, anche ai docenti, le informazioni utili da portare a casa. Cosa chiediamo a un corso? Chiediamo a un corso di fornirci gli strumenti da utilizzare subito, il giorno dopo che siamo tornati a casa. Cioè poter fare in modo che il nostro casente possa beneficiare di quello che abbiamo imparato. E quindi la formula di GREEN è stata sempre quella. Più attenzione a tutto ciò che è pratico, a tutto ciò che è fruibile, senza mai trascurare l'aspetto scientifico e l'aggiornamento. Il motto di quest'anno è facciamo bene le cose semplici. Perché spesso, se ci pensate bene, in modo un po' superficiale, definiamo come rutinario ciò che facciamo ogni giorno, la patologia più frequente, ma quella patologia non è rutinaria. Essa rappresenta una buona fetta di ciò che lamento ai nostri piccoli pazienti, che noi dobbiamo affrontare con competenza e con precisione. Cioè dobbiamo raggiungere la migliore diagnosi per dare poi un'ottima terapia al paziente. E questo si può solamente raggiungere e ottenere, creando, percorrendo i terapia condivisi sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista terapeutico. Che siano facilmente riproducibili, cioè che ci diano subito, in modo molto pratico, dei risultati. Questo vuole fare GREEN. GREEN vuole offrirvi degli strumenti fruibili, pratici, riproducibili e condivisi a livello multidisciplinare per fare una buona diagnosi e dare quindi una corretta terapia. Come si svolgerà il corso? Il corso si articolerà in tre giornate, 28 ore in cui ci saranno lezioni frontali, dibattiti e confronto con gli esperti. Ci saranno esercitazioni su modelli sintetici e anche su dimostrazioni di esami su pazienti reali selezionati. Sui modelli sintetici vi eserciterete nel lavaggio auricolare, le medicazioni auricolari, nel tamponamento nasale, nella rimozione dei corpi estranei, eseguite un'autoendoscopia, una rinoendoscopia e poi avremo una parte che già abbiamo dedicato a questo sistema l'anno scorso, dedicata proprio al sistema Butterfly, intelligenza collettiva a servizio dei professionisti della sanità. Avremo la possibilità di utilizzare uno strumento che ci aiuta a sbagliare di meno e a prendere decisioni condivise che ci possano aiutare nella pratica quotidiana della nostra professione. Questo sempre con lo stesso spirito, uno spirito caratterizzato da mancanza assoluta di formalismi e formalità in un rapporto alla pari dove discendi e docenti si scambiano esperienze, opinioni per raggiungere un unico obiettivo, quello di essere migliori, di divenire medici migliori. Tutto questo nella cornice del sangue, nella cornice di Benevento, con la sua cultura, con i suoi movimenti, con la sua storia, con la sua gastronomia, con la sua accoglienza, in uno spirito di sincera amicizia e cordialità. Quindi io vi aspetto al Green 2017 in programma per il prossimo 6-8 settembre 2017. Seguitemi nelle prossime puntate perché nelle prossime puntate ci saranno delle anticipazioni sugli argomenti che saranno oggetto del prossimo corso Green dove troverete anche degli spunti di approfondimento che vi serviranno come introduzione, come prima fase nell'attesa poi del corso vero e proprio. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.